Cos'è l'Inps? Cos'è veramente l'Inps? Un istituto nato per dare le pensioni alla gente e invece è stato trasformato nel corso degli anni in una sorta di ente assistenziale che si occupa di tutto e anche delle pensioni. Non è possibile che tutto debba essere a carico della collettività, le cose vanno separate, la previdenza consentirà ai cittadini di avere la pensione solo perché versano i contributi, l'assistenza è tutt'altra cosa. Quindi questa è l'iniziativa che sta ponendo in essere la nostra organizzazione sindacale, l'UGL ormai ha deciso di scendere prepotentemente in campo. L'Inps resti quello che doveva essere, fu costituito con buona pace del presidente Boeri che dice che sono 120 anni o 150 anni che c'è l'Inps, l'Inps è stata costituita nel 1935, mi dispiace per lui ma è così. E fu costituita proprio perché volevano dare a tutti quanti, loro che lavoravano, la sicurezza del futuro. L'Inps non ti manderà con la pensione alle BAMAS però ti garantisce un minimo per vivere e questo è importante, questo è fondamentale. La previdenza è soltanto quella che deriva da contributi versati, tutto il resto è assistenza. Quando dicono la pensione ai ciechi, con tutto il rispetto per i ciechi, non è la pensione, è un assegno. Viene a cominciare a parlare in termini diversi, viene a cominciare a spiegare alla gente che l'equivoco non è stato fatto per caso. L'Inps è stato costretto a giocare in questa maniera perché i governi, tutti i governi hanno scaricato sull'Inps i loro debiti. Il pensionato una volta che abbandona il posto di lavoro diventa emarginato per la società. Invece noi vogliamo che i pensionati devono avere tutti i diritti a cominciare da quelli della fiscalità. L'appello che farò è portare questo tema all'attenzione del sottosegretario ai lavori e alle politiche sociali, Claudio Durigon, che tra l'altro è un nostro uomo, è un uomo che viene dal mondo sindacale, faceva parte dell'UGL e che oggi noi lo troviamo all'interno dell'assetto governativo. Quindi lui deve darci una grossa mano d'aiuto perché i pensionati devono essere trattati in maniera diversa. Siamo carenti, assistenza, manca tutto. Noi vogliamo lavorare per questo. Noi vogliamo lavorare per questo.